Benvenuti nel mondo degli orologi Marvin. Marvin è un marchio di orologi svizzero che vanta una lunga tradizione nella produzione di orologi di alta qualità e precisione. Fondata nel 1850, a Saint-Imière, nel cuore della regione orologera svizzera, da Marc e Manuel Didisheim, Marvin ha saputo distinguersi fin dai primi anni per la sua attenzione alla progettazione e all'innovazione. Negli anni 70, Marvin ha introdotto il modello Malton, caratterizzato da un design contemporaneo e funzionale, che riscosse un grande successo tra gli appassionati di orologi. Negli anni 80, il marchio ha lanciato il modello M104, caratterizzato da un design futuristico e innovativo, che continuò a consolidare la reputazione di Marvin come marchio all'avanguardia nella progettazione degli orologi. Più recentemente, Marvin ha continuato a produrre orologi di alta qualità, con un'attenzione particolare alla progettazione e all'innovazione. Uno dei modelli più famosi del marchio è il M124, dotato di un movimento meccanico automatico e una cassa in acciaio inossidabile. La produzione degli orologi Marvin avviene interamente in Svizzera, utilizzando i migliori materiali disponibili e con una cura maniacale per i dettagli. Gli orologi Marvin sono caratterizzati da un design elegante e sofisticato, ma anche funzionale e pratico, per soddisfare le diverse esigenze degli appassionati di orologi. Il marchio si distingue per la sua attenzione alla qualità e alla precisione, ma anche per la sua capacità di innovare costantemente nella progettazione degli orologi. Grazie a questa capacità di reinventarsi continuamente, Marvin è diventato un marchio rispettato e apprezzato dagli appassionati di orologi di tutto il mondo. In sintesi, Marvin è un marchio di orologi svizzero di alta qualità e precisione, che vanta una lunga storia di produzione di orologi innovativi ed eleganti. Grazie alla sua attenzione alla progettazione e all'innovazione, il marchio è riuscito a distinguersi nel mondo dell'orologeria svizzera, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di orologi di tutto il mondo. Se sei alla ricerca di un orologio di alta qualità e dal design raffinato, non puoi non prendere in considerazione gli orologi Marvin.